giovedì amichevole primo test per i nostri ragazzi misti allievi giovanissimi oggi il primo test gara amichevole con la virtus lanciano un ottimo banco di prova per tastare la preparazione dei nostri ragazzi che con oggi sono cinque giorni cinque allenamenti che vanno giocheranno con la maglia gialla da quest'altro lato c'è la virtus lanciano di mister giovannelli di camilla nella classica tenuta bianco nera seconda milita mister mister gabri tutto concentrato